Una ribollita a merenda o un lampredotto a colazione? Da Nuvoli tutto è possibile! Nuvoli è la vera osteria fiorentina di Walter Nuvoli e figlio! Potete degustare la cucina toscana a qualunque ora, dal panino in piedi, al pranzo con gli amici, tutto il giorno ma la sera alle 9, tutti a Nanna! Fiaschetteria Osteria Nuvoli, Piazza dell'Olio 15 Rosso a Firenze!